Chianese, pomeriggio perfetto, tre gol, tante occasioni, tanto gioco, insomma bene così no? La squadra ha reagito bene dopo domenica, iniziamo anche avendo degli esterni bassi a spingere sulle fasce riusciamo a fare bene sulle catene quindi oggi mi è piaciuto, la squadra ha interpretato bene la partita quindi siamo riusciti con Gatto che sta uscendo anche lui fuori il play Vincenzo e quindi riusciamo ad avere più geometria in questo caso, la squadra penso che abbia legittimato il risultato anzi Tante giocate, belle giocate, tante occasioni, insomma è un chieti come tra virgolette non l'avevamo ancora mai visto lo vedremo ancora, sì? Certo che sì, dobbiamo, lo dico sempre, magari qualcuno è un po' scettivo, stiamo crescendo, dobbiamo crescere adesso ho detto prima, ci sono dei giocatori che avevano bisogno, perché è una squadra totalmente nuova sono contento, ripeto, sono contento, anche domenica, l'ho detto domenica a fine partita che ero contento della prestazione dopo tre giorni la squadra ha reagito e ha dato una dimostrazione di quello che ha voglia di dimostrare in questo campionato e là davanti, oggi sono arrivati penso diverse verticalizzazioni, diversi cross e lui è stato bravo a finalizzare le occasioni avute falle il capitano con il quale rappresenta me, rappresenta la società, rappresenta i compagni e come dimostra è un giocatore che non si risparmia mai Ardemagni, che cosa è successo? Sta male? Ha qualcosa di indestinato, ma cos'è il genere, Matteo è un giocatore importante per noi, lo aspettiamo e quanto prima speriamo che possa stare con noi Che ne sei visto il periodo, vogliamo lasciarci, era anche l'ultima partita del giorno di andata e di questo 2023 con gli auguri di Natale per tutti Esattamente, faccio gli auguri al popolo tiatino che è sempre vicino a noi, ci fa sentire sempre il sostegno e noi cercheremo, come abbiamo sempre fatto, di onorarlo in meglio che possano passare queste feste in famiglia e voglio fare soprattutto a quelli che non riescono a poter essere qui presenti e vorrei farlo anche a quelli che non possono assistere a queste partite quindi un augurio globale a tutti i tifosi tiatini